Kafka, la Tana Ho assestato la Tana e pare riuscita bene. Dal di fuori, in verità, si vede soltanto un gran buco che però in realtà non porta in nessun luogo. Già dopo pochi passi si incontra la roccia naturale e solida. Non voglio vantarmi di aver adottato questa astuzia con intenzione. Fu piuttosto l'avanzo di uno dei tanti vani tentativi di costruzione. Ma, infine, mi parve vantaggioso non colmare quest'unico buco. Certo ci sono astuzie così sottili che si stroncano da sole, lo so meglio di qualunque altro. Ed è certamente temerario richiamare con questo buco l'attenzione sull'eventualità che qui ci sia qualcosa che metta conto d'indagare. Ma non mi conosce chi pensa che io sia codardo e scavi questa Tana soltanto per vigliaccheria. Da almeno mille passi di distanza da questo buco si trova coperto da uno strato spostabile di musco il vero accesso alla Tana che è al sicuro. Come può essere sicuro qualcosa al mondo? Si sa. Qualcuno potrebbe montare sul musco o urtarlo. E allora la mia Tana sarebbe aperta. E chiunque ne abbia voglia, vi sono però necessarie, ben inteso, anche certe capacità non troppo frequenti, può penetrarvi e distruggere tutto per sempre. Lo so benissimo. E la mia vita, neanche ora che è al suo culmine, ha un momento in cui sia veramente tranquillo. Là, in quel punto del musco opaco, posso essere colpito a morte. E nei miei sogni c'è spesso un grugno bramoso che vi annusa continuamente. Realmente avrai potuto, si dirà, chiudere questo buco d'entrata al di sopra con uno strato sottile di terra abbattuta e più sotto con terra friabile, in modo che bastasse un piccolo sforzo per aprirmi ogni volta la via d'uscita. Eppure non è possibile. Proprio la prudenza mi impone di avere un'immediata possibilità di sfogo. La prudenza stessa esige, come purtroppo tante volte, che si mette a repentaglio la vita. Tutti questi sono calcoli molto faticosi e la gioia che il cervello intelligente ha di se stesso è talvolta l'unico motivo perché si continui a calcolare. Devo avere l'immediata possibilità di evasione. Infatti, nonostante la vigilanza, non potrei essere aggredito da una parte assolutamente imprevista? Vivo in pace nella parte interna della casa e intanto il nemico mi si avvicina da qualche parte scavando lento e silenzioso. Non dico che abbia un fiuto migliore del mio. Può darsi che sappia di me tanto poco quanto io di lui. Esistono però predoni appassionati che frugano la terra alla cieca. Data l'enorme estensione della mia tana, possono sperare di incontrare in qualche punto una delle mie strade. È vero che ho il vantaggio di essere in casa mia, di conoscere esattamente tutte le vie e le direzioni. Il ladro può diventare facilmente la mia vittima dolce e saporita per giunta. Io però invecchio. Molti sono più robusti di me e i miei avversari sono innumerevoli. Potrebbe capitarmi di fuggire un nemico e di cadere nelle grinfie di un altro. Ahimè! Che cosa non potrebbe succedere? In ogni caso però devo avere la sicurezza che in qualche luogo ci sia un'uscita aperta, facilmente raggiungibile, dove io non debba più lavorare per uscire all'aperto, in modo che mentre vi sto scavando da disperato, seppure in un ammasso friabile, non mi avvenga a un tratto, il cero non voglia, di sentirmi nelle gambe le zanne dell'inseguitore. E a minacciarmi non sono soltanto i nemici di fuori, ce ne sono anche nell'interno della tana. Non li ho mai visti, ma ne parlano le leggende e ci credo fermamente. Sono esseri sotterranei e nemmeno la leggenda è in grado di descriverli. Persino le loro vittime sono riuscite appena a vederli. Essi vengono, si sente il raspare dei loro artigli immediatamente sotto di sé nella terra che è il loro elemento e già si è perduti. E non vale essere nella propria casa. In realtà, si è nella loro. Da essi non può salvarmi neanche quella via d'uscita. Anzi, probabilmente non mi salva in nessun caso. Ed è invece la mia rovina. Però è una speranza e senza di essa non posso vivere. Oltre a questa via principale, mi uniscono al mondo esterno anche altre vie molto fresche, abbastanza sicure, che mi procurano aria buona e respirabile. Sono scavate dai topi di bosco e io ho saputo includerle opportunamente nella mia costruzione. Mi offrono anche la possibilità di fiutare a distanza e così mi proteggono. Di lì mi arriva anche ogni sorta di bestiole che consumo, sicché posso avere una certa caccia minuta, sufficiente, per una vita modesta, senza neanche abbandonare la tana, cosa naturalmente molto preziosa. Ma la cosa più bella nella mia tana è il silenzio. Certo, anche questo è fallace. Può essere improvvisamente interrotto e allora tutto è finito. Per il momento però c'è ancora. Posso strisciare per ore nelle mie gallerie e non sento se non talvolta il fruscio di qualche bestiolina che faccio subito tacere stringendola fra i denti oppure lo scivolo della terra che mi annusa la necessità di qualche riparazione. Nel resto tutto è silenzio. Entra l'aria del bosco e fa caldo e fresco ad un tempo. Talvolta mi distendo e dal benessere mi arrotolo nella galleria. È bello possedere una tana così per la vecchiaia ormai prossima, essere arrivati sotto un tetto quando incomincia all'autunno. Ogni cento metri ho allargato le gallerie creando piazzette rotonde dove posso acciambellarmi comodamente, scaldarmi al mio proprio calore e riposare. Là dormo il dolce sonno della pace, dei desideri placati, della meta raggiunta di possedere una casa. Non so se sia una consuetudine di antichi tempi o se i pericoli anche di questa casa siano abbastanza gravi da destarmi. Di tempo in tempo regolarmente mi riscuoto dal sonno profondo e sto in ascolto. In ascolto nel silenzio che qui regna immutato di giorno e di notte. Sorrido tranquillo e ripiombo in un sonno ancora più profondo. Poveri viandanti senza casa per le strade maestre nelle boscaglie rintanati semmai in un mucchio di foglie o in mezzo a un branco di compagni esposti a tutti gli insulti del cielo e della terra. E io me ne sto qui in un punto protetto da ogni lato. Di questi posti ce ne sono in questa dimora più di cinquanta e tra il dormiveglia e il sonno incosciente trascorro le ore che mi scelgo a volontà per tale scopo. Non precisamente nel mezzo della tana ben calcolata per il caso di estremo pericolo non proprio di un inseguimento ma di un assedio si trova la piazza principale. Mentre tutto il resto sarebbe più il frutto di uno sforzo mentale che di un lavoro fisico questa piazza è il risultato delle più gravi fatiche di tutte le mie membra alcune volte nella disperazione della spossatezza fisica ero sul punto di abbandonare tutto mi mettevo il supino ma ridicendo la costruzione mi trascinavo fuori e la lasciavo lì aperta lo potevo fare perché non avevo intenzione di ritornarvi finché dopo qualche ora o qualche giorno rientravo pentito e avrei quasi intonato un canto alla costruzione intatta e con sincera letizia riprendevo il lavoro lo scavo della piazzaforte incontrò maggiori difficoltà e senza ce ne fosse bisogno cioè senza che la tana avesse alcun utile da quel lavoro a vuoto perché proprio nel punto previsto dal progetto la terra era molto friabile e sabbiosa e bisogna addirittura martellarla per poter formare la piazza arrotondata e coperta da una volta per tali lavori però non possiedo altro che la fronte con la fronte dunque cozzai mille e mille volte per giorni e notti contro la terra ed ero felice a furia di colpi mi sanguinava perché era la prova che la parete cominciava ad essere salda e in questo modo si ammetterà mi sono ben meritato la piazza forte in questa piazza raccolgo le provviste qui ammucchio tutto ciò che nelle mie cacce dentro la tana catturo oltre la necessità del momento e tutto ciò che riporto dalle cacce fuori di casa la piazza è così vasta che le provviste per sei mesi non bastano a riempirla perciò le posso distendere comodamente posso camminare tra l'una e l'altra a giocare con esse godermi l'abbondanza e i diversi odori e avere sempre il quadro della giacenza posso anche disporre le provviste in ordine diverso e secondo la stagione fare gli opportuni preventivi e i piani di caccia in certi periodi sono provvisto così bene che indifferente al cibo non tocco neanche la minutaglia che mi gira intorno benché per altre ragioni questa sia forse un'imprudenza il frequente studio dei preparativi di difesa fa sì che le mie opinioni circa lo sfruttamento della tana per tali scopi si modifichino o si sviluppino sempre però in un campo limitato certe volte mi sembra pericoloso fondare interamente la difesa sulla piazza centrale la varietà della costruzione mi offre diverse possibilità e mi sembra più prudente distribuire un poco le provviste e rifornirne anche qualche piazza più piccola e allora faccio poniamo di ogni terza piazza un deposito di provviste o di ogni quarta un magazzino principale e di ogni seconda uno secondario e così via oppure per ingannare il nemico escludo certe vie dal rifornimento di provviste o scelgo soltanto pochi posti saltuariamente secondo la loro posizione rispetto all'uscita principale è vero che ciascuna di questi nuovi progetti richiede gravi fatiche di trasporto devo provvedere a nuovi calcoli e porto poi la merce avanti e indietro lo posso fare certamente con calma senza precipitare e non è neanche sgradevole portare tra le fauci quelle buone cose riposare dove mi piace e assaggiare ciò che di volta in volta mi stuzzica peggio è quando riscuotendomi dal sonno mi sembra che la distribuzione sia in quel momento assolutamente sbagliata che può essere causa di gravi pericoli e debba essere immediatamente rettificata in gran fretta senza riguardo al sonno o alla stanchezza allora mi affanno allora volo non ho tempo di far calcoli volendo eseguire un piano nuovo e preciso afferro a capriccio ciò che mi capita fra i denti trascino porto sospiro gemo inciampo e un mutamento pur che sia nella situazione attuale e nell'apparenza così straordinariamente pericolosa mi pare che basti finché a poco a poco mentre mi sveglio del tutto arriva la riflessione e non capisco il perché di tanta fretta respiro la pace della mia dimora che io stesso ho turbata ritorno al mio giaciglio mi addormento subito per la nuova stanchezza ridestandomi mi trovo magari un topo fra i denti prova inconfutabile del lavoro notturno che mi pare quasi di aver sognato in altri periodi poi mi sembra che la soluzione migliore sia quella di riunire tutte le provviste in un posto solo che mi giovano le provviste nei luoghi piccoli quanta roba vi si può collocare e qua dunque cosa vi si collochi non fa che sbarrare la strada e un giorno potrebbe essermi di ostacolo nella difesa nella corsa oltre a ciò è stupido ma vero che ne soffre l'orgoglio quando non si vedono le provviste tutte raccolte e non basta un'occhiata per abbracciar ciò che si possiede e in tutte queste distribuzioni non possono andar perdute molte cose non posso galoppare continuamente nelle gallerie per dritto e per traverso a controllare se tutto è a posto l'idea fondamentale della distribuzione delle provviste è certamente giusta ma pensandoci bene solo quando si possiedono più piazze sul tipo della mia piazzaforte già parecchie piazze così e chi le fa l'altra parte nel piano generale della mia costruzione non ci possono più entrare ormai ammetto senz'altro che questo è un difetto di costruzione come è sempre un difetto possedere di qualunque cosa un esemplare solo confesso inoltre che durante tutto il periodo della costruzione sentivo oscuramente ma con chiarezza che sarebbe stato sufficiente se avessimo avuto anche la buona volontà l'esigenza di un numero maggiore di piazze ma non l'ho assecondata mi sentivo troppo debole per quell'enorme lavoro anzi mi sentivo troppo debole per raffigurarmi la necessità del lavoro e in qualche modo mi confortavo con sentimenti non meno oscuri secondo i quali so che di solito non sarebbe sufficiente doveva esserlo eccezionalmente nel caso mio per qualche grazia forse perché la provvidenza era particolarmente interessata a conservare la mia fronte che fa da maglio fatto è che ho una sola piazzaforte mentre gli oscuri timori che quest'una un giorno non sarebbe sufficiente si sono dileguati comunque sia di essa devo accontentarmi le piazzette non possono in alcun modo sostituirla e quando quest'idea è matura nella mia mente ricomincio a ritrasportare tutto dalle piazzette alla piazza centrale per qualche tempo provo poi un certo conforto nel trovare libere tutte le piazze e le gallerie nel vedere come nella piazza centrale siano ammucchiate le provviste di carne che mandano fin nelle gallerie estreme la combinazione dei numerosi odori ciascuno dei quali mi delizia a modo suo senza dire che pur da lontano riesco a discernerli esattamente allora vengono di solito periodi particolarmente tranquilli nei quali trasporto lentamente a poco a poco il mio giaciglio dalle propaggini estreme verso l'interno mi immergo sempre più profondamente negli odori finché non ne posso più e una bella notte mi precipito nella piazza centrale faccio man bassa tra le provviste e mi empio delle cose migliori che più mi piacciono fino allo stordimento completo tempi beati ma pericolosi chi li sapesse sfruttare mi potrebbe annientare facilmente senza correre alcun rischio anche qui la mancanza di una seconda o terza piazzaforte contribuisce a danneggiarmi il mucchio raccolto tutto in un posto mi seduce cerco di reagire e di proteggermi in diversi modi la distribuzione nelle piazzette è infatti una di queste misure ma purtroppo come altre misure simili provoca attraverso l'astinenza un'avidità ancora maggiore che poi sopraffacendo il raziocinio muta ad arbitrio per i suoi fini i piani di difesa dopo si fatti i periodi per raccogliermi provvedo a una revisione della tana e dopo aver eseguito le necessarie riparazioni spesso la abbandono sia pure soltanto per breve tempo la punizione di privarmene a lungo mi sembra troppo dura persino allora ma capisco la necessità di fare ogni tanto un'escursione quando mi avvicino all'uscita lo faccio sempre con una certa solennità nei periodi di vita casalinga evito l'uscita evito persino la galleria che vi conduce con le ultime propaggini e non è neanche facile praticare quei posti perché vi ho scavato un intreccio di galleria zig zag là è incominciata la mia costruzione a quel tempo non potevo ancora sperare di poterla mai finire come era nel mio progetto perciò cominciai in quell'angolino come per gioco e il primo fervore di attività vi si sfogò in una specie di labirinto che allora mi pareva l'apice dell'architettura mentre oggi sono probabilmente nel giusto giudicandolo un lavoretto meschino non proprio degno della costruzione totale che in teoria sarà magari delizioso qui all'ingresso della mia dimora dicevo allora con ironia ai nemici invisibili e già mi pareva di vederli soffocare tutti nel labirintico ingresso ma in realtà è un giochetto dalle pareti troppo sottili che difficilmente potrebbe resistere a un attacco serio o a un nemico che lottasse disperatamente per la vita devo perciò ricostruire questa parte rimando la decisione e penso che rimarrà come è prescindendo dalla grande fatica che mi addosserei questa sarebbe anche la più pericolosa che si possa immaginare quando incominciai la costruzione vi potevo lavorare relativamente tranquillo il rischio non era molto maggiore che altrove oggi invece sarebbe come richiamare per capriccio l'attenzione del mondo su tutta la costruzione oggi non è più possibile ne sono quasi contento provo anche un certo attaccamento sentimentale a questo lavoro da principiante e se dovesse capitare un attacco in grande quale pianta dell'ingresso potrebbe salvarmi l'ingresso può ingannare distrarre tormentare l'aggressore anche questo lo fa alla meglio a un vero attacco in grande devo però cercare di oppormi con tutti i mezzi della costruzione complessiva e con tutte le energie del corpo e dell'anima questo va da sé rimanga dunque anche l'ingresso così la costruzione ha molti punti deboli imposti dalla natura può dunque conservare anche questo difetto creato da me ma esattamente riconosciuto sia pure tardi ciò non vuol dire che questo difetto non mi inquieti di quando in quando o magari sempre quando nelle solite passeggiate scanso questa parte della tana lo faccio soprattutto perché la vista ne è sgradita perché non sempre ho voglia di vedere un difetto di costruzione che fin troppo si agita nella mia coscienza rimanga pure il difetto lassù all'ingresso senza possibilità di rimedio ma io finché lo posso evitare desidero risparmiarmi nella vista basta che cammini in direzione dell'uscita quando ne sono ancora separato da piazze e gallerie e già ho l'impressione di arrivare in un'atmosfera di grande pericolo mi pare talvolta di sentire rarefarsi il mio peso come dovessi trovarmi tosto con la carne nuda ed essere accolto in quell'istante dagli urli dei nemici sono sentimenti che l'uscita stessa provoca in quanto cessa la protezione della casa ma un particolare tormento mi viene dalla disposizione dell'ingresso talvolta sogno di averlo ricostruito di aver cambiato ogni cosa rapidamente con energie da giganti in una sola notte all'insaputa di tutti e che ora sia inespugnabile il sonno nel quale ciò mi appare è più dolce di tutti e quando mi sveglio lacrime di gioia e di sollievo mi luccicano ancora sui baffi quando esco devo quindi vincere anche fisicamente la pena che mi dà questo labirinto e provo dispetto e commozione a un tempo ogni qual volta mi smarrisco per un istante nella mia propria fabbrica e l'opera sembra ancora compresa nello sforzo di provare a me che già da un pezzo mi sono fatto un giudizio la sua giustificazione di esistere allora però mi trovo sotto la copertura di musco alla quale talvolta tanto è che non mi muovo di casa lascio il tempo di diventare una sola cosa col fondo del bosco e basta un urto della testa per uscire dal suolo straniero esito a lungo a fare quel piccolo movimento e se non dovessi ripercorrere il labirinto dell'ingresso certamente desisterei e tornerai indietro come mai la tua casa è al sicuro chiusa da ogni parte tu vivi in pace al caldo ben nutrito padrone padrone assoluto di una quantità di gallerie e piazze non vorrai spero non dirò sacrificare ma in un certo qual modo abbandonare tutto ciò eppure avendo la speranza di riacquistarlo ti permetti di rischiare un gioco forte troppo forte dici che ne hai motivi plausibili no per cose simili non esistono motivi plausibili tuttavia sollevo cautamente la botola ed esco all'aperto la lascio ricadere cautamente e mi allontano più presto che posso dal luogo che potrebbe tradirmi a dire il vero però non sono in libertà è vero che non stiscio più nelle gallerie ma vado a caccia nel bosco aperto sento in corpo nuove energie per le quali dirò così non c'è spazio nella tana neanche se la piazza forte fosse dieci volte più vasta anche se il cibo è migliore qua fuori la caccia è bensì più difficile la buona riuscita più rara ma i risultati sono in ogni caso più apprezzabili non lo nego so rendermene conto e goderne almeno quanto chiunque altro anzi probabilmente meglio perché non vado a caccia per leggerezza o disperazione come i vagabondi ma con calma e con intenzione d'altro canto non sono destinato alla vita libera so che il mio tempo è misurato che non devo cacciare qui all'infinito ma quando voglio sono stanco di questa vita c'è qualcuno che per così dire mi chiama alcun invito non saprò resistere così posso assaporare pienamente questo periodo e passarlo senza preoccupazioni o diciamo meglio potrei eppure non posso penso troppo alla tana sono scappato di corsa dall'uscita ma presto vi ritorno scelgo un buon nascondiglio e tengo d'occhio l'ingresso della mia casa dal di fuori questa volta per giorni e notti sarà una sciocchezza ma mi procura una gioia ineffabile e mi fa stare tranquillo mi sembra di non essere davanti a casa mia ma davanti a me stesso mentre dormo e di aver la fortuna di poter dormire sodo e nello stesso tempo sorvegliarmi attentamente ho in certo qual modo il privilegio non solo di vedere i fantasmi notturni dell'impotenza e della non curanza del sonno ma di affrontarli in realtà con tutto il vigore della veglia e con una pacata facoltà di giudizio e mi sembra di non stare poi così male come tante volte ho creduto e come probabilmente tornerò a credere quando rientrerò nella mia dimora in questo senso forse anche in qualche altro ma soprattutto in questo le mie escursioni sono davvero indispensabili certo per quanta cura abbia messo nello scegliere un ingresso fuori di mano certo il piano generale mi impose determinate limitazioni il traffico che vi si svolge è considerevole se si riassumono le osservazioni di una settimana ma così avviene forse in tutte le regioni abitabili e può anche darsi che sia meglio esporsi a un traffico intenso che appunto per la sua intensità travolge se stesso anziché essere esposti in piena solitudine al primo invasore che capiti frugando a suo agio qui ci sono molti nemici e più ancora complici dei nemici ma si combattono anche a vicenda e così occupati passano via di corsa senza badare alla tana non ho mai visto nessuno che stesse proprio esplorando all'ingresso per mia e sua fortuna poiché forse è nato nella preoccupazione per la tana lo avrei certo preso per la gola vennero bensì individui nella cui vicinanza non ebbe il coraggio di restare e davanti ai quali dovevo fuggire quando soltanto li sospettavo in lontananza del loro contegno verso la tana non dovrei neanche pronunciarmi con certezza ma per stare tranquillo mi basta ricordare che ritornando indietro non ne trovai più nessuno e l'ingresso era intanto ci furono tempi beati nei quali osavo quasi pensare che l'ostilità del mondo contro di me fosse cessata o smorzata e che la resistenza della tana mi dispensasse dalla precedente lotta senza quartiere la tana mi protegge forse più di quanto non abbia mai pensato o mi arrischio a pensare quando sono nell'interno arrivavo al punto che talvolta mi veniva il puerile desiderio di non rientrare affatto ma di sistemarmi nelle vicinanze dell'entrata di passare la vita a sorvegliarla e di considerare sempre con mia grande gioia quanta sicurezza potesse darmi la tana se fossi dentro ma dai sogni puerili ci si può riscuotere rapidamente che sicurezza è quella che osservo di qui posso giudicare il pericolo che corro nella tana in base alle esperienze che faccio qui fuori hanno forse ai miei nemici il fiuto giusto quando non sono dentro la tana un poco mi fiutano certamente ma non per intero e la presenza del fiuto completo non è forse molte volte il presupposto del pericolo normale i tentativi che faccio qui fuori sono soltanto metà o decimi di tentativi possono tranquillarmi e attraverso la falsa tranquillità espormi ai massimi pericoli no non osservo il mio sonno come credevo dormo invece mentre il nemico veglia ma te forse tra coloro che passano non curanti davanti all'ingresso soltanto per assicurarsi come faccio anch'io che la porta sia ancora intatta in attesa del loro assalto e tirano via soltanto perché sanno che il padrone di casa non è all'interno o perché sanno addirittura che se ne sta innocente nei cespugli lì accanto lascio pertanto il mio osservatorio e stufo della mia vita in libertà mi pare di non avere più nulla da prendere qui né oggi né mai e ho voglia di prendere commiato da tutte queste cose di scendere nella tana e di non ritornare mai più di lasciare che le cose vadano per la loro china e di non intralciarle con osservazioni inutili ma viziato dall'aver potuto osservare per tanto tempo ciò che avveniva sopra l'ingresso mi riesce molto penoso eseguire la discesa e può dare molto nell'occhio e non sapere che cosa succederà tutto intorno dietro alle mie spalle e poi sopra la botola ricollocata a posto comincio col tentare nelle notti di burrasca di buttare rapidamente la preda nella tana operazione sembra riuscita ma se sia riuscita realmente si vedrà dopo quando io stesso sarò entrato si vedrà ma non lo vedrò io o forse neanch'io o forse anch'io ma troppo tardi desisto dunque e non dicendo scavo beninteso a sufficiente distanza dal vero ingresso una galleria di prova non più lunga di me stesso eppure coperta da uno strato di musco mi insinuo nella galleria la chiudo dietro di me aspetto con pazienza calcolo tempi ora brevi ora lunghi a diverse ore del giorno butto indietro il musco esco e registro le mie osservazioni faccio le più svariate esperienze buone e cattive ma non riesco a trovare una norma universale o un metodo infallibile di discesa per questo non sono ancora sceso nel vero ingresso e mi dispero di doverlo fare assai presto non sono molto lontano dalla risoluzione di andarmene via di riprendere la vecchia vita sconsolata che priva di ogni sicurezza era un unico monotono susseguirsi di pericoli e quindi non permetteva di distinguere con precisione e di temere il pericolo singolo come mi insegna continuamente il confronto con la mia tana sicura e la vita altrove si sa una siffatta decisione sarebbe una vera pazia provocata soltanto dall'eccessivo soggiorno nell'assurda libertà la tana è ancora mia non ho che da fare un passo e sono al sicuro e mi libero da tutti i dubbi e alla luce del giorno corro dritto verso la botola per sollevarla indubbiamente eppure non posso ricorro sopra e mi caccio apposta in un groviglio di rovi per punirmi di una colpa che non so quale sia alla fine alla fine devo riconoscere che ho ragione che è veramente impossibile scendere senza rivelare per un istante ciò che ho di più caro a tutti qui intorno quelli che sono per terra sugli alberi e nell'aria il pericolo non è immaginario è molto reale non è detto che colui al quale faccio venire la voglia di inseguirmi sia un nemico vero e proprio può essere benissimo un innocente qualunque qualche animaletto ripugnante che mi venga dietro per curiosità e senza volere faccia da guida a tutto il mondo ostile e non occorre neanche che sia questo può essere e non è un male minore dell'altro anzi in un certo senso è il peggiore può essere qualcuno della mia specie un conoscitore amatore di tane qualche fratello silvestre amante della pace ma un fior di mascalzone che voglia avere una casa senza costruirsela se almeno venisse subito se almeno scoprisse con la sua sporca brama il mio ingresso cominciasse a frugarvi a sollevare il musco e se vi riuscisse vi si insinuasse al mio posto o fosse già entrato fino al punto da lasciarmi scorgere un ultimo istante il suo di dietro avvenisse tutto ciò sicché finalmente potessi balzargli addosso furibondo libero d'ogni scrupolo e morderlo dilaniarlo straziarlo dissanguarlo e aggiungere il suo cadavere al resto della preda ma soprattutto questa sarebbe la cosa più importante riessere finalmente nella mia tana ammirare magari questa volta il labilinto ma prima richiudere sopra di me la copertura di musco e riposare penso per tutto il resto della mia vita invece non viene nessuno io devo affidarmi a me stesso pensando sempre soltanto a queste difficoltà perdo un poco della mia paura non evito più l'ingresso nemmeno esteriormente la mia occupazione preferita è di girarvi intorno sembra quasi che io stesso sia il nemico in attesa della buona occasione di rompere con buon esito avessi almeno qualcuno cui confidarmi da poter mettere al mio posto di osservazione potrei scendere tranquillo con lui mi metterai d'accordo purché durante la mia discesa e per parecchio tempo dopo stesse a osservare la situazione e in caso di indizi pericolosi bussasse alla botola altrimenti no in questo modo non ci sarebbero più sospetti rimarrebbe semmai il mio fiduciario non vorrà infatti essere contraccambiato non vorrà almeno visitare la tana già il fatto di fare entrare qualcuno di mia volontà mi sarebbe estremamente penoso ho costruito la tana per me non per i visitatori credo che non lo lascerai entrare nemmeno a patto che dia a me la possibilità di entrarci non potrei nemmeno farlo entrare perché o dovrei lasciarlo scendere da solo cosa assolutamente impensabile o dovremmo scendervi insieme e così perderei il vantaggio che egli dovrebbe procurarmi facendo l'osservatore dietro alle mie spalle e che dire della fiducia di uno in cui ho fiducia guardandolo negli occhi potrei fidarmi altrettanto quando non lo vedessi e fossimo separati dalla copertura di musco è relativamente facile aver fiducia in qualcuno se nello stesso tempo lo si sorveglia o almeno lo si può sorvegliare forse è persino possibile aver fiducia a distanza ma fidarsi dall'interno della tana cioè in un altro mondo di uno che stia fuori mi sembra impossibile per resto non sono neanche necessari questi dubbi basta la considerazione che durante o dopo la mia discesa tutti gli infiniti casi della vita possono impedire al fiduciario di fare il suo dovere e quali conseguenze incalcolabili potrebbe avere per me anche un suo minimo impedimento no no tutto sommato non devo proprio lamentarmi di essere solo e di non avere nessuno di cui fidarmi così certamente non perdo alcun vantaggio e forse mi risparmio qualche danno fiducia posso avere soltanto in me e nella tana dovevo pensarci prima e prendere provvedimenti per il caso che ora mi assilla almeno in parte sarebbe stato possibile all'inizio della costruzione avrei dovuto scavare la prima galleria in modo che avesse due ingressi a dovuta distanza tra loro in maniera che potessi scendere da uno con tutte le inevitabili manovre percorrere rapidamente la galleria fino al secondo ingresso sollevare il musco che vi avrai collocato a tal fine e sorvegliare possibilmente da quel punto la situazione per alcuni giorni e alcune notti soltanto questa sarebbe stata una soluzione giusta è vero che due ingressi raddoppiano il pericolo ma questa preoccupazione avrebbe dovuto scomparire in questo caso tanto più che quell'ingresso che era previsto soltanto come posto di osservazione avrebbe potuto essere molto stretto e così mi perdo in considerazioni tecniche riprendo un'altra volta a sognare di una costruzione perfetta ciò mi rende un po' tranquillo e ad occhi chiusi ammiro e statico possibilità più o meno convincenti dalle quali uscire ed entrare inosservato mentre stando qui colicato penso a queste cose attribuisco grande valore a quelle possibilità ma solo in quanto conquiste tecniche non come reali vantaggi poiché quell'uscire ed entrare inosservato che cosa sarebbe indizio di una mente irrequieta di un'incerta valutazione di me stesso di brame poco pulite cattive qualità diventano ancora peggiori in presenza della tana che pure esiste e può infondere un senso di pace purché ci si affidi ad essa interamente in questo momento ne sono fuori sì e sto cercando una possibilità di ritornare perciò le necessarie disposizioni tecniche sarebbero benvenute ma forse anche non tanto non significa forse sottovalutare alquanto la tana nella momentanea agitazione nervosa se la si considera soltanto uno scavo nel quale si voglia infilarsi con un massimo di sicurezza certo essa è anche questo scavo sicuro o dovrebbe esserlo e quando mi figuro di trovarmi in un pericolo voglio a denti stretti e con tutta la mia forza di volontà che la tana non sia se non il buco destinato a salvarmi la vita e che adempia questo compito ben definito con la massima perfezione e sono disposto a condonarle qualunque altro compito se non che le cose stanno così in realtà e a questa non si presta attenzione nei grandi pericoli e l'attenzione bisogna acquistarla persino in momenti pericolosi offre sì molta sicurezza ma non mai abbastanza poiché vi scompaiono forse mai del tutto le apprensioni sono apprensioni diverse più ambiziose più ricche di contenuto sovente più represse ma il loro effetto deleterio è magari uguale a quello delle apprensioni che ci dà la vita qui fuori se avessi costruito la tana soltanto per assicurarmi la vita non sarai truffato ma il rapporto tra l'enorme fatica e la sicurezza effettiva almeno in quanto sono capace di sentirla e di approfittarne non sarebbe in mio favore è molto doloroso ammetterlo ma non posso farne a meno proprio qui di fronte all'ingresso che ora si chiude anzi dirò così si stringe convulso contro di me che ne sono il costruttore proprietario fatto è che la tana non è soltanto un rifugio quando mi trovo nella piazza forte circondato dalle provviste di carne ammucchiata guardando verso le dieci gallerie che di lì si ripartono ciascuna secondo il piano generale in salita o in discesa dritta o curva allargantesi o restringentesi e tutte uniformemente silenziose e deserte pronte ciascuna a suo modo a condurmi verso le numerose piazzette deserte e silenziose anche queste allora è lontana da me l'idea della sicurezza allora so benissimo che questa è la mia rocca strappata al suolo renitente raspando e mordendo pestando e pigiando la rocca che non può in alcun modo appartenere ad altri ed è talmente mia che in fin dei conti vi posso anche accettare dal nemico la ferita mortale poiché il mio sangue imbeverebbe il suolo mio e non andrebbe perduto e che altro se non questo è anche il significato delle belle ore che tra il sonno pacifico e la veglia serena passo nelle gallerie le quali sono calcolate esattamente per me perché possa crogiolarmi avvoltolarmi come un bambino giacere sognando addormentandomi beatamente e le piazzette tutte ben note che nonostante siano perfettamente uguali distinguo nettamente ad occhi chiusi dalla curva delle pareti mi accolgono in pace e tepore come nessun uccello è accolto dal suo nido e tutto tutto è deserto e silenzioso ma quando è così perché indugio perché temo l'invasore più della possibilità di non vedere forse mai la mia tana via questa è fortunatamente una cosa impossibile non sarebbe affatto necessario farmi capire con riflessioni che cosa sia la tana per me io e la tana siamo talmente uniti che mi ci potrei insediare tranquillo tranquillo nonostante i miei timori e non dovrei neanche tentare di farmi forza per aprire l'ingresso contro ogni preoccupazione basterebbe pienamente che aspettassi inoperoso poiché nulla ci può separare a lungo andare e in qualche modo vi scenderò certissimamente ma quanto tempo potrà passare fino all'ora e quante cose potranno accadere in questo tempo sia qui sopra sia laggiù eppure soltanto da me dipende abbreviare questo tempo e fare subito quanto occorre ora già incapace di pensare a causa della stanchezza con la testa ciondoloni malfermo sulle gambe quasi dormendo più attentoni che camminando mi avvicino all'entrata sollevo lentamente il musco scendo ad agio per distrazione lascio l'ingresso scoperto più di quanto sia necessario mi ricordo di questa omissione risalgo per porvi riparo ma perché mai dovrei risalire devo soltanto assestare la coperta di musco bene ridiscendo dunque e finalmente tiro la coperta soltanto in queste condizioni esclusivamente in queste condizioni lo posso eseguire allora sto dunque sotto il musco sopra la preda raccolta colta in mezzo a pozze di sangue e succo di carni e potrei abbandonarmi al sonno desiderato nulla mi disturba nessuno mi è venuto dietro sopra il musco pare che tutto sia calmo almeno finora e se anche non fosse penso che ora non potrei indugiare in osservazioni ho cambiato luogo dal mondo superiore sono entrato nella mia tana e ne sento immediatamente gli effetti è un mondo nuovo che infonde energie nuove e quella che di sopra stanchezza qui non è considerata tale sono ritornato da un viaggio stanco morto dallo strapazzo ma la vista della vecchia dimora il lavoro di assestamento che mi attende la necessità di visitare in fretta tutti i locali almeno superficialmente di andare soprattutto in gran fretta nella piazza forte tutto ci trasforma tutto ciò trasforma la mia stanchezza in inquietudine e fervore si direbbe che nel momento in cui sono entrato nella tana abbia fatto un sonno lungo e profondo il primo lavoro è molto faticoso e mi impegna tutto si tratta di trasportare la preda attraverso le gallerie strette e fragili del labirinto spingo avanti con tutte le mie forze e ci riesco ma con troppa lentezza per accelerare tiro indietro una parte dei mucchi di carne vi passo sopra e attraverso in modo che ne ho soltanto una parte davanti a me e ora è più facile portarla avanti ma mi trovo talmente circondato dalle masse di carne in queste gallerie strette nelle quali non mi è sempre facile passare neanche quando sono solo che potrei restare soffocato dalle mie stesse provviste e talvolta riesco a salvarmi dalle loro masse urgenti solo divorando e bevendo il trasporto però mi riesce lo porto a termine in un tempo non troppo lungo il labirinto è superato tiro il fiato in una galleria regolare spingo la preda da una galleria di collegamento in una galleria principale preparata apposta per questi casi la quale con rapida pendenza scende nella piazza forte ora non c'è più da faticare tutta rotola e scorre in discesa quasi da sé finalmente nella mia piazza finalmente potrò riposare nulla è mutato a quanto pare non è successo alcun guaio notevole i piccoli guasti che noto alla prima occhiata saranno presto riparati prima però dovrò fare la lunga esplorazione delle gallerie ma questa non è una fatica è come chiacchierare con amici similmente a ciò che facevo in altri tempi o non sono ancora molto vecchio ma in molti casi la memoria già mi tradisce come ho sentito dire che suole accadere mi avvio apposta ad agio nella seconda galleria dopo aver visto la piazza centrale ho tempo all'infinito entro la tana ho sempre tempo all'infinito perché tutto ciò che vi faccio è buono e importante e per così dire mi satolla incomincio la seconda galleria e interrompo la revisione a metà passo alla terza e da questa mi faccio ricondurre alla piazza forte dopodiché devo prendere un'altra volta la seconda galleria e così mi trastullo col lavoro e lo vado aumentando e me la rido e sono contento e pur essendo stordito dal grande affare non smetto per voi gallerie e piazze e per le tue questioni anzitutto piazza centrale sono venuto ho disprezzato la vita dopo essere stato a lungo così sciocco da tremare per essa e da ritardare il mio ritorno a voi che mi importa il pericolo ora che sono con voi voi siete mie io sono vostro siamo legati che cosa ci può capitare si affollino si affollino pure lassù e tengono pronto il grifo che fuorirà il musco muta e deserta saluta anche me la tana e conferma ciò che dico adesso però mi prende una certa indolenza e in un punto tra i miei preferiti mi acciambello per un po' sono ben lontano dall'aver visto tutto ma voglio continuare la mia visita sino alla fine non voglio dormire qui cedo soltanto all'allusinga di sistemarmi come se volessi dormire voglio soltanto vedere se mi riesce bene come una volta sì che mi riesce ma non so invece staccarmi e rimango profondamente addormentato dopo aver dormito molto tempo vengo svegliato soltanto dall'ultimo sonno quello che si dilegua da sé il sonno deve essere ormai molto leggero perché mi sveglio a un sibilo quasi impercettibile capisco subito le bestiole troppo poco sorvegliate da me troppo risparmiate durante la mia assenza hanno forato in qualche punto un nuovo passaggio che si è incontrato con un vecchio l'aria vi si ingolfa e produce questo rumore sibilante come sono sempre attive queste bestioline e come è molesta la loro assiduità origliando alle pareti della mia galleria dovrò innanzitutto scoprire con scavi di prova il luogo del disturbo per poter poi eliminare il rumore d'altro canto il nuovo cunicolo purché risponda in qualche modo alle condizioni della tana potrebbe anche essere utile per un nuovo flusso d'aria da ora in poi però starò più attento a questo minutame e nessuno dovrà più essere risparmiato siccome ho molta pratica di siffatte indasini non ci metterò molto tempo posso incominciare subito ma che ci siano anche altri lavori da fare ma questo è più urgente le mie gallerie devono essere silenziose questo rumore però è relativamente innocuo non l'ho neanche udito quando entrai ma che ci fosse già certamente ho dovuto riambientarmi per udirlo lo sentono dirò così soltanto le orecchie del padrone di casa e non è neanche continuo come sono di solito questi rumori ci sono lunghe interruzioni dovute evidentemente a ingorghi della corrente d'aria comincio le ricerche ma non riesco a trovare il punto nel quale dovrei intervenire faccio alcuni scavi ma soltanto a casaccio si intende che così non arrivo ad alcun risultato e la grande fatica di scavare e quella ancora maggiore di colmare e pareggiare è vana non mi avvicino nemmeno all'assorgente del rumore che continua ugualmente sottile a intervalli regolari ed è ora un sibilo ora una specie di fischio potrei anche non occuparmene per il momento certo è un grave disturbo ma non vi dovrebbe essere dubbio intorno alla supposta origine del rumore perciò non si rafforzerà anzi al contrario può accadere finora a dire il vero non ho mai aspettato tanto questi fatti rumori scompaiano da sé con l'andare del tempo in seguito al successivo lavoro dei piccoli scavatori e prescindendo da ciò molte volte si arriva per caso a scoprire il disturbo mentre la ricerca sistematica può essere per molto tempo un fallimento così mi consolo e preferirei perlustrare le gallerie e visitare le piazze molte delle quali non ancora rivedute e passarvela un poco tra una visita all'altra nella piazza forte ma non trovo pace e devo continuare le mie ricerche molto tempo molto tempo che potrei impiegare meglio mi costa questa minutaglia in si fatte occasioni mi attira di solito il problema tecnico dopo il rumore per esempio che il mio orecchio è esercitato a distinguere in tutte le sfumature e che può essere esattamente registrato me ne figuro la causa e allora sento la smania di controllare se la realtà vi corrisponde e faccio bene perché fin tanto che non ho trovato la causa non posso neanche sentirmi sicuro dovesse anche trattarsi solamente di sapere dove andrà a rotolare un granello di sabbia che scende da una parete un rumore così non è certo privo di importanza ma è importante o no per quanto vado cercando non trovo nulla o meglio trovo troppo proprio nel mio posto preferito dove va a cadere penso e mi porto possibilmente lontano da quel punto quasi a mezza via tra questo e il posto seguente ma a rigore non c'è che uno scherzo quasi volessi dimostrare che non è stato proprio il mio solo posto preferito a produrre questo disturbo ma disturbi ne esistono anche altrove e sorridendo mi metto a origliare ma tosto smetto di sorridere perché in verità anche qui sento un sibile uguale non è niente penso che nessuno tranne me lo udirebbe lo sento però sempre più distintamente con l'orecchio reso più sensibile dell'esercizio benché in realtà si tratti dappertutto del medesimo rumore come posso convincermi facendo confronti non diventa neanche più forte me ne rendo conto quando sto in ascolto nel mezzo della galleria senza origliare proprio alla parete allora solo facendo uno sforzo addirittura concentrandomi più che sentire indovino il soffio di un suono ma proprio questa uniformità in ogni luogo mi disturba più che mai perché non posso farla concordare con la mia ipotesi iniziale se avessi indovinato giustamente la causa del rumore esso avrebbe dovuto emanare con la massima intensità da un determinato punto che si sarebbe potuto trovare per poi diventare sempre meno forte se invece la mia spiegazione non era esatta di che si trattava rimaneva ancora l'eventualità che ci fossero due centri di rumore che io finora avessi ascoltato lontano dai centri e quando mi avvicinavo a uno di essi i suoi rumori aumentassero bensì ma diminuendo quelli dell'altro centro il risultato totale rimanesse per l'orecchio approssimativamente sempre uguale e stando attento in ascolto quasi mi pareva di afferrare differenze di suono che rispondevano alla nuova ipotesi sia pure molto vagamente in ogni caso dovevo allargare il campo di prova molto di più di quanto non avessi fatto finora scendo pertanto la galleria fino alla piazzaforte e là mi metto in ascolto strano anche qui il medesimo rumore sarà un rumore prodotto dagli scavi di chissà quali animaletti insignificanti che hanno approfittato indegnamente della mia assenza e in ogni caso non hanno alcuna cattiva intenzione contro di me si occupano soltanto del loro lavoro e finché non incontrano un ostacolo seguono le direzioni una volta presa tutte cose che so eppure mi riescono incomprensibile mi irritano e confondono la mia mente così necessaria per i miei lavori perché hanno osato arrivare fino alla piazza in questo punto non voglio distinguere che sia stata la profondità abbastanza notevole della piazza forte la sua ampiezza il suo corrispondente forte movimento d'aria a spaventare gli scavatori o fu semplicemente il fatto che la stessa piazza in seguito a chissà quali notizie non sa fare impressione alla loro scarsa intelligenza vero è che fino allora non avevo osservato scavi nelle pareti della piazza centrale arrivavano sì animali in grandi quantità attirati dalle acre e evaporazioni lì facevo le mie cacce sicure ma erano penetrati da qualche parte nelle mie gallerie e scendevano poi di corsa angosciati bensì ma irresistibilmente attratti dunque ora scavavano anche nelle pareti avessi almeno eseguito i più importanti progetti della mia giovinezza e della prima virilità o piuttosto avessi avuto la forza di eseguirli perché la volontà non mi era certo mancata secondo uno di questi piani prediletti bisognava staccare la piazza forte dalla terra circostante vale a dire lasciare le pareti soltanto per uno spessore uguale pressa poco alla mia statura e creare più sopra tutto intorno alla piazza tranne un piccolo fondamento non staccabile purtroppo dalla terra un intercapedine uguale alla parete in questa cavità mi ero sempre figurato e forse non ha torto di avere il più bel soggiorno che per me potesse darsi attaccarmi a questa convessità tirarmi ci su scivolare giù fare una capriola e ritrovare il terreno sotto i piedi eseguire tutti questi giochi per così dire sul corpo della piazza eppure non entro il suo spazio vero e proprio poter evitare la piazza riposare agli occhi sulla sua vista rimandare a più tardi la gioia di vederla eppure non doverne fare a meno ma tenerla salda dirò così tra gli artigli cosa è impossibile quando si ha soltanto il solito eccesso comune ma soprattutto poterla sorvegliare essere dunque talmente indennizzati del non vederla che certamente dovendo scegliere tra il soggiorno nella piazza e quello nell'intercapedine si sceglierebbe quest'ultima per tutta la vita in modo da passeggiarvi sempre in su e in giù e da proteggere la piazza allora non ci sarebbero rumori alle pareti non si farebbero scavi impudenti fino alla piazza stessa la pace vi sarebbe garantita e io ne sarei il custode non avrei la necessità di stare a sentire con disgusto gli scavi della minutaglia ma ascolterei con denizia una cosa che ora mi manca del tutto il rombo del silenzio nella piazza forte se non che tutte queste belle cose non ci sono e io devo recarmi al lavoro devo essere quasi contento che questo stia in rapporto diretto con la piazza perché ciò mi mette le ali ai piedi certo come appare sempre più chiaramente mi occorrono tutte le energie per questa fatica che sulle prime sembrava così trascurabile ora sto in ascolto alle pareti della piazza ed ovunque tenda l'orecchio in alto o in basso alle pareti o al suolo agli ingressi o all'interno dappertutto dappertutto lo stesso rumore e quanto tempo quanta tensione richiede questo ascolto del rumore intermittente un piccolo conforto per illudermi posso trovare se vogliamo il fatto che qui nella piazza allontanando l'orecchio dal suolo a causa della vastità della piazza non si sente niente affatto mentre si sente nelle gallerie faccio queste prove talvolta solo per riposare per ritrovare me stesso ascolto attentamente e sono felice di non dire nulla altro canto che cosa è successo di fronte a questo fenomeno tutte le mie prime spiegazioni sono un fallimento devo però respingere anche altre spiegazioni che mi si offrono si potrebbe credere che ciò che odo proviene dalle bestioline stesse che sono al lavoro ma ciò sarebbe contrario a tutte le esperienze non posso certo cominciare a sentire all'improvviso ciò che non ho mai udito benché ci fosse sempre la mia sensibilità ai disturbi potrà essere aumentata nella tana con gli anni ma l'udito non si è certo fatto più acuto la natura stessa delle bestiole fa sì che non si odano le avrei forse tollerate se non fosse così a rischio di morire di fame le avrei distrutte forse però anche questo pensiero mi si insinua nella mente si tratta di un animale che non conosco ancora potrebbe anche darsi è vero che da molto tempo e con sufficiente attenzione osservo le vite quaggiù ma il mondo è vario e le brutte sorprese non mancano mai in ogni caso non potrebbe essere un animale singolo ce ne dovrebbe essere un branco entrato improvvisamente nel mio territorio un grande branco di piccoli animali che essendo percettibili sono superiori alla minutaglia ma superiori soltanto di poco dato che il rumore del loro lavoro è molto tenue potrebbero essere dunque animali ignoti un branco di passaggio che mi disturba il cui passaggio però dovrebbe cessare presto a rigore dunque potrei aspettare senza essere infine costretto a una fatica superflua ma se sono animali estranei perché non si fanno vedere ho fatto già molti scavi per afferrarne uno ma non lo trovo mi viene in mente che potrebbero essere animali minuscoli molto più piccoli di quelli che conosco e che soltanto il rumore che fanno è maggiore esamino perciò la terra scavata butto in aria le zolle per farle sbriciolare in particelle piccolissime ma non vi si trovano i produttori del rumore piano piano capisco che con questi piccoli scavi di fortuna non raggiungerò nulla non faccio che frugare dentro le pareti della tana raspo qua e là in fretta non ho tempo di colmare i buchi in qualche punto ci sono già mucchi di terra che impediscono il passaggio e la vista sono tutti fastidi di poca importanza non posso né fare le mie passeggiate né guardarmi in giro né riposare più volte durante il lavoro mi sono già appisolato in qualche buca per un momento con una zampa aggrappata alla terra dalla quale nei torbi veglia stavo per staccarne un pezzo ora cambierò metodo scaverò un grande cunicolo regolare in direzione del rumore e non smetterò di scavare finché indipendentemente da ogni teoria non avrò trovato la vera causa del rumore allora se starai me la eliminerò altrimenti avrò acquistato almeno la certezza questa mi darà o la tranquillità o la disperazione ma sia l'una sia l'altra saranno al di là di ogni dubbio e giustificate questa deliberazione mi fa bene mi sembra di aver precipitato tutto quanto ho fatto finora nell'agitazione del ritorno non ancora libero dalle apprezzioni del mondo esterno non ancora interamente accolto nella pace della tana reso ipersensibile per averne dovuto fare a meno tanto tempo mi sono lasciato sconcertare da un fenomeno che riconosco quanto sia strano che cosa è in fondo un leserossibile udibile soltanto a lunghi intervalli o nulla al quale non dirò che ci si possa abituare no non si si potrebbe abituare ma senza prendere per il momento alcuna misura di difesa lo si potrebbe osservare per qualche tempo stando cioè in ascolto per due ore e registrando pazientemente il risultato anziché come faccio io strisciare con l'orecchio lungo le pareti e scavare la terra ogni quel volta sento il rumore non già per trovare qualcosa ma per fare qualcosa che corrisponde all'inquietudine interna ora spero che le cose andranno diversamente d'altro canto non lo spero affatto come ammetto ad occhi chiusi furibondo contro me stesso perché tremo dall'inquietudine esattamente come da molte ore e se il buon senso non mi trattenesse mi metterei probabilmente a scavare in qualche punto indifferente se vi sia qualcosa da sentire o no cocciuto ottuso pur di scavare quasi simile ormai al minutame che o scava senza alcuna ragione o soltanto perché mangia la terra il mio nuovo piano razionale mi alletta e non mi alletta non vi è nulla da obiettare io almeno non saprei alcuna obiezione e per quanto vedo il mio piano dovrà portare alla meta eppure in fondo non ci credo ci credo così poco che non temo nemmeno i possibili orrori delle sue risultanze non credo nemmeno in un risultato pauroso anzi fin dalla prima comparsa del rumore mi pare di aver pensato a un siffatto scavo razionale e non averlo ancora cominciato soltanto perché non riponevo alcuna fiducia ad onta di ciò lo comincerò naturalmente non mi resta alcuna possibilità ma non comincerò subito rimanderò un tantino il lavoro se il buon senso deve trionfare un'altra volta voglio che trionfi del tutto e non mi precipiterò a eseguire questo lavoro prima in ogni caso ripalerò i danni prodotti da quei miei assaggi ciò richiederà molto tempo ma è necessario e il nuovo cunicolo dovrà portare davvero a una meta sarà probabilmente esteso e se non dovesse portare a una meta sarà interminabile in ogni caso questo lavoro richiede un'assenza piuttosto lunga dalla tana non così grave come quella del mondo di sopra volendo posso interrompere il lavoro venire a visitare la mia dimora e quando anche lo facessi l'aria della piazzaforte mi raggiungerà e mi investirà durante il lavoro sarà dunque però un allontanamento dalla tana e l'abbandono a una sorte incerta perciò voglio lasciarmi alle spalle la tana in perfetto ordine non voglio si dica che lottando per la sua tranquillità io stesso l'abbia turbata e non immediatamente ristabilita comincio dunque a colmare di terra le buche lavoro che so fare molto bene e ho fatto infinite volte quasi senza considerarlo un lavoro specie nell'ultima compressione e liciatura non è soltanto per lodare me stesso è semplicemente la verità sono capace di eseguirlo in maniera insuperabile questa volta però il lavoro mi pesa sono troppo distratto mentre lavoro appoggio continuamente con l'orecchio alla parete sto in ascolto e con indifferenza lascio che la terra appena scavata riscorra sotto di me giù per la china quasi noti riesco a dare gli ultimi tocchi di abbellimento che richiedono un'attenzione maggiore rimangono brutte sporgenze e fastidiose fenditure senza dire che anche nel complesso in queste pareti così rappezzate viene a mancare la vecchia linea cerco di confortarmi pensando che è un lavoro provvisorio quando ritornerò quando la pace sarà ristabilita aggiusterò ogni cosa definitivamente e allora tutto si potrà fare di volo già tutto si fa di volo nelle fiabe e anche questa consolazione va messa tra le fiabe meglio sarebbe fare subito un lavoro perfetto sarebbe molto più utile che interromperlo continuamente andare in giro per le gallerie e scoprire nuove sedi del rumore ma qualcosa in verità è molto facile perché basta fermarsi in un posto qualunque e stare a sentire faccio anche altre scoperte inutili talvolta mi pare che il rumore sia cessato tanto è vero che fa lunghe pause talvolta il sibilo mi sfugge perché è troppo forte mi pulsa il sangue nelle orecchie e allora due pause si uniscono e per un poco l'impressione che il sibilo sia cessato per sempre allora non continuo ad ascoltare balzo in piedi tutta la vita subisce un rivolgimento è come si aprisse la fronte dalla quale sgorga il silenzio della tana mi guardo all'andare subito a controllare la scoperta cerco qualcuno cui poterla prima confidare senza dubitarne ritorno al galoppo nella piazza e siccome con tutto ciò che sono mi ridesto a una vita nuova mi accorgo che da un pezzo non ho mangiato scavo qualcuna delle provviste mezzo interrate e mentre ancora sto inghiottendo ritorno sul posto dell'incredibile scoperta soltanto di sfuggita mentre ancora mangio voglio riassicurarmi del fatto che sto in ascolto ma questo ascolto fugace mi dimostra subito che mi sono miseramente ingannato poiché il sibilo lontano continua imperterrito allora sputo il boccone vorrei sotterrarlo a zampate e ritorno al lavoro senza neanche sapere quale è in qualche luogo dove sembra necessario e questi luoghi non mancano incominciò a fare qualcosa macchinalmente come fosse arrivato l'ispettore e dovesse recitare la commedia ma dopo aver lavorato così per qualche istante può capitare di fare un'altra scoperta il rumore aumenta di intensità non di molto ben inteso si tratta sempre di minime differenze ma un poco più forte l'orecchio lo nota chiaramente questo intensificarsi sembra un avvicinamento e ancora più chiaramente di quanto non si senta la maggiore intensità vede per così dire il passo col quale il rumore si avvicina allora mi stacco dalla parete cerco di affrontare con uno sguardo tutte le eventuali conseguenze che la scoperta potrà avere ho l'impressione di non aver mai organizzato la tana alla difesa contro un attacco ne ho avuto l'intenzione ma il pericolo di attacco mi era parso contrario a tutte le esperienze della vita la difesa è quindi una cosa lontana o piuttosto non lontana come sarebbe mai possibile ma di grado inferiore alle disposizioni per una vita pacifica alle quali ho dato quindi sempre la preferenza nella tana molte cose si sarebbero potute fare in quel senso senza turbare il progetto fondamentale ma non si sa come siano state trascurate ho avuto molta fortuna in tutti questi anni la fortuna mi ha viziato ero stato inquieto ma l'inquietudine quando si è fortunati non conduce a nulla la prima cosa da fare ora sarebbe veramente un'ispezione della tana per vederne le difese e tutte le eventualità immaginabili l'elaborazione di un piano di difesa del relativo progetto di costruzione e poi l'inizio immediato del lavoro come avessi le energie fresche dei giovani questo sarebbe il lavoro necessario per il quale diciamo pure a troppo tardi ma sarebbe necessario davvero invece di stare a scavare qualche grande galleria esplorativa con l'unico scopo di dedicarmi senza difesa e con tutte le mie forze alla ricerca del pericolo nello stupido timore che questo non possa sopraggiungere abbastanza presto da sé ora non capisco più il mio piano precedente sensato com'era a suo tempo non vi riscontro il minimo buon senso di nuovo abbandono il lavoro smetto anche di stare in ascolto non voglio più scoprire altri aumenti di intensità ne ho abbastanza delle scoperte pianto in asso ogni cosa e sarei già soddisfatto se potessi plecare il mio dissidio interiore ancora una volta mi lascio trasportare dalle mie gallerie arrivo in quelle sempre più lontane non ancora rivedute dopo il mio ritorno non ancora toccate dal raspare delle mie zampe dove al mio arrivo il silenzio si desta e mi calo addosso non mi abbandono passo di corsa non so più che cosa vada cercando probabilmente soltanto un rinvio mi avventuro così lontano che arrivo fino al labirinto sono tentato di stare in ascolto sotto la coperta di musco cose così lontane lontane per il momento mi interesso mi avanzo fin lassù e sto ad ascoltare silenzio profondo com'è bello qui nessuno sicura della mia tana ognuno va per i fatti suoi che non mi riguardano punto come ho fatto a ottenere tutto ciò qui sotto il musco è forse l'unico punto della tana dove posso origliare per ore e ore inutilmente la situazione interna si è capovolta quello che finora era il punto pericoloso è diventato un'oasi di pace mentre la piazzaforte è ormai travolta nel rumore del mondo e dei suoi pericoli peggio ancora in realtà non vi è pace nemmeno qui qui nulla è mutato sia tacito o rumoroso il pericolo sta in agguato come prima sopra il musco ma io sono divenuto insensibile impegnato come sono ad ascoltare il sibilo nelle mie pareti mi sono impegnato esso diventa più forte si avvicina mentre io striscio nel labirinto e sosto quassù sotto il musco quasi volessi lasciare ormai la dimora a chi sibila pur di godere quassù un po' di pace a colui che sibila possiedo forse una nuova esatta opinione intorno alla causa del rumore esso proviene certamente dai condotti che le bestiole scavano non è vero non è questa la mia precisa opinione non pare che l'abbia ancora abbandonata e se non proviene direttamente da quei canali viene in qualche modo indirettamente e se non dovesse connettervisi in alcun modo non si può certo fare nessuna ipotesi a priori e si deve aspettare finché non si scopra la causa o essa non si manifesti da sé certo anche ora potrei fare un gioco di supposizioni potrei dire per esempio in qualche punto lontano c'è stata una irruzione d'acqua e quello che mi sembra un fischio o un sibilo sarebbe in realtà uno scroscio ma prescindendo dal fatto che in questo campo non ho alcuna esperienza l'acqua sotterranea che avevo trovato da principio l'ho subito deviata e non ne ho più trovata in questo terreno sabbioso prescindendo da ciò si tratta precisamente di un sibilo e non lo si può interpretare come uno scroscio a che servono però tutti gli inviti alla calma la fantasia non si ferma e io tengo effettivamente a credere non ha scopo negarlo a me stesso che il sibilo provenga da un animale non già da molti e piccoli ma da uno soltanto e grande si possono fare parecchie obiezioni che rumore lo si ode dappertutto sempre con la stessa intensità e per giunta regolarmente di giorno e di notte certo sulle prime verrebbe fatto di supporre l'esistenza di numerosi animaletti ma siccome avrei dovuto trovarli nei miei scavi e non ho trovato nulla non rimane che supporre l'esistenza dell'animale grande tanto più che contrario a questa ipotesi sarebbero soltanto cose che non annullano la possibile esistenza dell'animale ma lo rendono soltanto pericoloso al di là di qualsiasi immaginazione solo per questo mi sono opposto a tali ipotesi non voglio più saperne di questa illusione già da un pezzo mi trastullo con l'idea che lo si ode a grandi distanze per il fatto che lavora febbrilmente e penetra nella terra con la velocità di chi passeggia per la strada aperta la terra trema a quegli scavi anche quando sono già finiti e questa vibrazione successiva si fonde col rumore del lavoro stesso in lontananza in modo che io udendo l'ultimo di leguarsi del rumore lo sento uguale dappertutto a ciò contribuisce il fatto che l'animale non dà segni certo viene verso di me e perciò il rumore non muta ci deve essere un piano del quale non afferro il significato suppongo soltanto che l'animale e non voglio mica affermare che sappia della mia esistenza mi arrecchi e già deve aver tracciato alcuni cerchi intorno alla tana da quando lo osservo molto mi dà da pensare la qualità del rumore sibilo fischio quando gratto e raspo la terra a modo mio ne viene un suono tutto diverso mi spiego il sibilo pensando che il principale strumento dell'animale non siano le unghie con le quali semmai si aiuta bensì il muso o il grifo che oltre alla forza enorme possono anche avere qualche parte tagliente è probabile che esso fori la terra con un unico potente urto del grifo e ne strappi un bel pezzo in questo tempo non sento niente questa è la pausa ma poi esso aspira di nuovo all'aria per un altro urto questo aspirare che deve provocare un rumore da far tremare la terra non solo per la forza dell'animale ma anche per la sua fretta per il fervore che mette nel lavoro questo rumore lo afferro come un leggero sibilo mi rimane però incomprensibile la sua capacità di lavorare senza smettere può darsi che le brevi pause offrino anche la possibilità di un minimo riposo ma un riposo vero e lungo non deve esserci ancora stato l'animale scava giorni e notte sempre con la stessa energia e freschezza tenendo presente il progetto che vuole eseguire in fretta con tutte le capacità che possiede ebbene non potevo aspettarmi un simile avversario senza contare però le sue particolarità ciò che avviene è soltanto una cosa che avrei dovuto temere sempre contro la quale avrei sempre dovuto prendere provvedimenti qualcuno cioè si avvicina come è stato possibile che per tanto tempo tutto procedesse felicemente in silenzio chi ha guidato i nemici in modo da far fare loro un giro largo intorno ai miei possedimenti perché sono rimasto tanto tempo protetto e incontro ora tanta minaccia che cos'erano mai quei piccoli pericoli che passavo il tempo a considerare in confronto di questo speravo forse quale proprietario della tana di avere il sopravvento su chiunque arrivasse appunto come proprietario di questo grande vulnerabile impianto mi trovo inerme davanti a ogni considerevole attacco la felicità del possesso mi ha viziato la delicatezza della costruzione mi ha reso sensibile le sue ferite mi fanno male come fossero inferte a me avrei dovuto prevedere tutto ciò e non pensare soltanto a difendere me stesso con quanta leggerezza inutilità ho fatto persino ciò ma a difendere anche la tana bisognava provvedere anzitutto che singole parti della tana possibilmente molte quando fossero attaccate da qualcuno venissero isolate mediante frane che si potessero provocare in minimo tempo dalle parti meno in pericolo e si potessero separare con masse di terra tali e così efficaci da impedire all'aggressore di immaginare che la tana vera e propria fosse al di là non basta questi frammenti dovrebbero non solo nascondere la tana ma seppellire anche l'aggressore non ho fatto neanche il più piccolo tentativo in questo senso niente assolutamente niente è venuto in proposito sono stato spensierato come un fanciullo ho sprecato gli anni virili in giochi da bambini persino con l'idea dei pericoli mi sono limitato a trastullarmi ho trascurato di pensare realmente a pericoli reali e non sono mancati gli avvertimenti è vero che non è stato fatto nulla di uguale al momento presente ma qualcosa di simile fu fatto nei primi tempi della costruzione la differenza fu appunto che erano i primi tempi io lavoravo allora direi da piccolo apprendista alla prima galleria il labirinto era appena tracciato a grandi linee avevo già scavato una piazzetta che però nelle misure nel trattamento delle pareti era un disastro insomma tutto ciò era talmente nella fase iniziale che poteva considerarsi soltanto un tentativo una cosa che quando si perde la pazienza si può anche abbandonare senza molto l'impianto allora in una pausa nella mia vita ho sempre fatto troppe pause nel lavoro mentre stavo in mezzo ai mucchi di terra udì improvvisamente un rumore lontano giovane com'ero provai più curiosità che praura smisì di lavorare stetti in ascolto sì in ascolto senza correre lassù sotto il musco per stendermi là e non dover ascoltare perlomeno stetti in ascolto distinguevo benissimo che si trattava di uno scavo simile al mio era bensì un po' più debole ma non si poteva calcolare quanto ciò dipendesse dalla distanza ero tutto proteso ma freddo e tranquillo può darsi che mi trovi in una tana altrui pensavo e che il proprietario muova verso di me se la mia supposizione fosse risultata giusta dato che non sono mai stato avido di conquiste o aggressivo me ne sarei andato a costruire altruve certo ero ancora giovane non possedevo ancora una tana potevo quindi essere freddo e calmo nemmeno il seguito mi mise in particolare agitazione fu soltanto difficile da interpretare se quello che stava scavando veniva realmente verso di me perché mi aveva udito scavare nel momento in cui come fece effettivamente cambiava direzione non era possibile stabilire se lo facesse perché con la mia interruzione nel lavoro gli toglievo ogni possibilità di orientamento o piuttosto perché egli stesso mutava parere ma forse mi ero ingannato e quello non si era mai diretto verso di me certo è che il rumore andò ancora intensificandosi per qualche tempo come si avvicinasse io così giovane non sarei stato neanche scontento di veder sbucare improvvisamente dalla tana lo scavatore ma ciò non avvenne a un certo punto il rumore cominciò ad evolirsi diventò sempre più fioco come se lo scavatore deviasse a poco a poco dalla direzione primitiva finché si interruppe improvvisamente come se quello si fosse deciso a prendere la direzione opposta e si allontanasse da me nel silenzio porsi ancora a lungo l'orecchio prima di riprendere il lavoro ebbene l'avvertimento era abbastanza chiaro ma me ne dimenticai subito e posso dire che non ebbe alcuna influenza sui miei piani edilizi tra quel tempo e oggi intercorre la mia età virile ma non sembra quasi che fra mezzo non ci sia stato nulla ancora interrompo a lungo il lavoro sto in ascolto alla parete ancora lo scavatore ha mutato parere ha preso la direzione opposta ritorna dal viaggio e crede di avermi lasciato il tempo di prepararmi a riceverlo dalla mia parte però tutto è disposto meno bene di allora il grande edificio è indifeso io non sono più un piccolo apprendista ma un vecchio costruttore e le poche forze che mi rimangono mi abbandonano quando si arriva al momento decisivo ma per quanto sia vecchio mi pare che accetterei volentieri di essere ancora più vecchio di quel che sono tanto vecchio da non poter più alzarmi dal giaciglio sotto il musco in realtà qui non resisto mi alzo e scendo rapidamente nella mia dimora come se invece di pace avessi raccolto qui nuove preoccupazioni a che punto eravamo di anzi il sibilo si era attenuato no era aumentato ascolto in dieci luoghi qualunque e noto benissimo l'illusione il sibilo è rimasto uguale nulla è mutato di là non avvengono mutamenti là si sta tranquilli si è superiori al tempo qui invece ogni istante scrolla chi ascolta e intanto ripercorro il lungo tragitto fino alla piazzaforte ogni cosa intorno mi sembra agitata pare che mi guardi e poi distolga subito lo sguardo per non disturbarmi e di nuovo si sforzi di scoprire sul mio volto le decisioni per la salvezza io crollo il capo perché non ne ho prese ancora e non ritorno nella piazza per attuarvi qualche progetto passo dal posto dove volevo scavare il cunicolo di assaggio mi soffermo a esaminare il luogo che sarebbe stato il cunicolo avrebbe portato verso la maggiore parte dei piccoli canali di aereazione i quali mi avrebbero facilitato di molto il lavoro forse non avrei neanche dovuto scavare lontano per avvicinarmi all'origine del rumore forse sarebbe bastato accostare l'orecchio a quei canali ma nessuna considerazione è tanto forte da indurni a questo lavoro di scavo questa galleria dovrebbe darmi la certezza sono arrivato al punto che la certezza non la voglio neanche nella piazza centrale scelgo un bel pezzo di carne rossa spellata e mi rannicchio con essa in uno dei mucchi di terra dove regnerà certamente il silenzio in quanto qua dentro esista ancora il silenzio vero e proprio lecco e gusto la carne penso ora alla bestia ignota che in lontananza se ne va per la sua strada poi penso che finché mi è possibile dovrai godermi lautamente le mie provviste quest'ultimo è probabilmente l'unico piano attuabile che io possieda un tre a ciò procuro di indovinare il piano dell'animale sta viaggiando o lavora la sua tana se è in viaggio si potrebbe anche venire a un'intesa se realmente giunge fino a me gli do un po' delle mie provviste e proseguirà per la sua strada si proseguirà tra i miei mucchi di terra posso naturalmente sognare qualunque cosa anche un'intesa pur sapendo benissimo che una cosa di questo genere non esiste e che nel momento in cui ci vedremo o anzi soltanto ci figureremo di essere vicini muoveremo l'uno contro l'altro ugualmente furenti nessuno prima e nessuno dopo con gli artigli e coi denti e con novella fame anche se saremo del tutto sazi e come sempre anche qui a buon diritto chi infatti pur essendo in viaggio non mi metterebbe di fronte dalla tana ai suoi progetti per il viaggio e per l'avvenire ma forse l'animale sta scavando nella propria tana e in questo caso non posso nemmeno sognare un'intesa fosse anche un'anima così singolare che la sua tana potesse tollerare un vicinato non lo tollera la mia non tollera almeno un vicinato che si possa udire ora l'animale sembra molto lontano e se si ritirasse ancora un poco più in là penso che anche il rumore scomparirebbe penso che tutto potrebbe aggiustarsi come ai bei tempi poi rimarrebbe soltanto una brutta ma benefica esperienza che mi spingerebbe alle più svariate migliorie quando sono tranquillo e il pericolo non è immediato sono ancora ben capace di ogni sorta di lavori considerevoli può darsi che l'animale date le enormi possibilità che ha a sua disposizione in rapporto alla sua capacità di lavoro rinuncia ad ampliare la tana in direzione della mia e trovi compenso da un'altra parte nemmeno questo si può raggiungere mediante trattative ma soltanto con l'intelligenza dell'animale stesso o con una pressione esercitata da parte mia in entrambi i casi deciderà il fatto se fin dove l'animale è informato sul conto mio quanto più ci penso tanto più mi sembra inverosimile che esso mi abbia udito può darsi anche che non riesco a figurarmelo che abbia avuto notizie di me per altre vie ma non credo che mi abbia udito non può avermi udito fin tanto che io non sapevo niente di lui perché allora me ne stavo silenzioso non esiste nulla di più silenzioso che rivedere la tana poi quando feci gli scavi di assaggio avrebbe sì potuto udirmi benché la mia maniera di scavare faccia pochissimo rumore ma se mi avesse udito anch'io me ne sarei dovuto accorgere almeno durante il lavoro avrebbe dovuto più volte sostare e rimanere in ascolto tutto invece è rimasto immutato e rimanere in ascolto